cosa state facendo come va questa storia qui proprio non d'amore no però questa amicizia questo inizio di amicizia come va mirti cosa ne pensi di lei eh mirti ti sta rubando tutti i tuoi posti lei è furba eh vero mirti lei ne frega guarda lei si lava tu badala eh amore cosa ne pensi mirti di questa gattina una un 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 Guarda lei.